Vittoria e Leone passano il pomeriggio con nonna Marina, che li porta a mangiare un buon gelato. Ti lo stavo dando io, ma ero troppo lenta, quindi ha pensato bene di prendersi la paletta e servirsi da sola. Una independent girl. Nonna Marina imbocca il gelato a Vittoria, ma va troppo piano, perciò le prende la paletta e lo mangia da sola.